Buongiorno ragazzi, l'ultima volta abbiamo visto la circonferenza. Adesso vediamo il cerchio. Che cos'è un cerchio? Il cerchio è la parte di piano costituita da tutti i punti di una circonferenza, quindi il contorno della figura, e dai punti interni ad essa, quindi tutti questi altri punti. Quindi, mentre la circonferenza è solo il contorno della figura, il cerchio è sia il contorno sia tutta la porzione di piano occupata. Il cerchio è dunque formato dai punti del piano che hanno dal centro distanza minore o uguale al raggio. Vedete, è sempre lo stesso discorso. Io ho il mio centro chiamato O, e poi tracciando la distanza con un qualsiasi punto della circonferenza ottengo il raggio. Allora, attenzione alla differenza. La circonferenza è una linea, il cerchio è la superficie, che ha come confine una circonferenza. Il centro ed il raggio della circonferenza si dicono anche centro e raggio del cerchio. Vediamo, come l'altra volta, come possiamo fare a verificare se un generico punto P, P' o P' appartengono a un cerchio di centro O. È molto semplice. Se la distanza di P da O è minore o uguale al raggio della circonferenza, allora P è un punto del cerchio, altrimenti non lo è. Allora, esaminiamo il segmento OP. Ha la stessa misura del raggio? No, è più piccolo, quindi questo è un punto interno alla circonferenza. Il segmento OP' ha la stessa misura del raggio? Sì, allora P' è un punto del cerchio. OP' supera la misura del raggio, perciò è un punto esterno al cerchio, quindi non appartiene al cerchio. Quindi, ripetiamo, il cerchio è la superficie costituita da tutti i punti di una circonferenza e dai punti interni alla circonferenza stessa.